Riapre senza restrizioni di orario il centro di raccolta a Cammarella, ma per ridurre i tempi di attese ed evitare gli assembramenti si dovrà accedere soltanto previa prenotazione telefonica. Il numero verde della Dastica è l'800 164722 oppure lo 0934 58 47 09 che è attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17. Tutti i colori quali entreranno al centro di raccolta dovranno avere la misurazione e si sottoporranno alla misurazione della temperatura corporea attraverso un termoscanner che è un passaggio necessario per garantire l'ingresso in tempi ridotti. Intanto la Dasti metterà a disposizione il disinfettante per l'igienizzazione delle mani e il controllo degli ingressi per evitare ogni forma di assembramento. Per velocizzare le operazioni di conferimento sarà disponibile anche una postazione altra dotata di un computer e bilancia e presa frazioni. Intanto bisognerà rispettare alcune regole basilari anti contagio ovvero mantenere la distanza di un metro, indossare obbligatoriamente i dispositivi individuali di protezione come mascherine e guanti, attendere il proprio turno rimanendo all'interno del veicolo a motore spento ed aspettare che il utente precedente non abbia completato le operazioni di scarico e si sia allontanato.